Quando siamo all'osteria la realtà se ne va via, ma al gioco ci affrettiamo per il quale noi impazziamo. Ciò che accade all'osteria dove il soldo fa allegria. Questa è cosa interessante, ascoltate a orecchi attenti. C'è chi gioca, c'è chi beve, chi indecentemente vive, c'è chi è vittima del gioco e a chi resta niente o poco. Chi se ne esce riberito, chi di panno è rivestito, qua nessun teve la morte, ma per pacco sfida sorte. Brindiamo chi paga i vini, poi beviamo con i verdini, un bicchiere accorcelato e poi tre cristiano, quattro per tutti i cristiani, cinque per i morti anziani, sei per l'uomo con l'armatura, sette per la donna impura, ma qui non ce ne sono. Otto ai figlioli perversi, nove ai monaci dispersi, dieci per i naviganti, undici per i litiganti, dodici per i penitenti e tredici per noi che ora siamo partenti, per il Papa, lo Papa, e per il Regio, bevono tutti, sin e l'ete. Grazie. 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 Grazie a tutti.